Entrambi erano rigori. Non ci siamo lamentati dopo quello che era successo all'andata, quindi non vogliamo fare commenti nemmeno adesso. Vedendoli in tv erano rigori tutti e due. Non c'è molto da aggiungere. Quando un fallo viene fischiato in area è rigore. Certe volte non fischiano, è vero, ma quando uno tira la maglia a un avversario è fallo.